Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo del palazzo della memoria o Mind Palace nel suo nome originale. Voglio farti capire in cosa consiste questa che è una delle tecniche di memoria, se non la tecnica di memoria più potente in assoluto, soprattutto alla luce di quello che abbiamo fatto in precedenza, quindi già nel mio canale ne ho parlato in modo anche abbastanza esteso, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico, però mi rendo conto che rinfrescare un po' le idee e fare anche qualche passo in avanti talvolta può essere molto molto importante e quindi questo è quello che voglio fare in merito al palazzo della memoria. Quindi cercherò di farti capire in cosa consiste, quali sono i meccanismi alla base del funzionamento del palazzo della memoria e di conseguenza alla fine del video saprai esattamente anche come dovresti utilizzarlo. Allora, partiamo proprio dalla base. Il palazzo della memoria, abbiamo detto all'inizio, che è una mnemotecnica, quindi una tecnica di memoria, quindi una strategia in grado di facilitare sia la codifica delle informazioni, quindi quando le portiamo da fuori, quindi dal materiale che stiamo studiando, all'interno della nostra mente e di conseguenza sarà anche più facile riuscire a recuperare le informazioni della nostra mente per poi riproporle quando ci serviranno, cioè in sostanza durante l'esame. Ecco che in questa dinamica il palazzo della memoria è uno, abbiamo detto all'inizio, forse la tecnica migliore per fare entrambi questi passaggi. Quindi in un senso e anche nell'altro. Ora, in cosa consiste? Sostanzialmente dobbiamo prendere le informazioni da memorizzare, le prendiamo una come esempio e andiamo a trasformare l'informazione, che la maggior parte delle volte, se non sempre, è sotto forma linguistica, quindi per esempio abbiamo un concetto, andiamo a trasformare il concetto in un'immagine corrispondente. Quest'immagine ovviamente sarà nella nostra mente. Fatto questo, quindi avvenuta la trasformazione, questo ci permetterà una maggiore facilità nell'andare a memorizzare le informazioni, perché il nostro cervello è in grado di elaborare in modo molto più rapido le immagini rispetto che alle informazioni testuali. Un modo di dire molto classico, infatti, è che un'immagine vale più e parla più di mille parole. Questo è proprio perché il nostro cervello funziona in questo modo. Completato questo primo step, il secondo step è quello di andare a posizionare questa immagine all'interno di un luogo, ovviamente nella nostra mente, quindi cerchiamo un luogo reale, un luogo che esiste veramente. Per esempio, la stanza in cui ti trovi in questo momento, per come la ricordi nella tua mente. Ovviamente se è una stanza in cui stai molto spesso a memoria, sai come è fatta, quali sono le caratteristiche principali, dove sono le porte, dove è la porta, dove è la finestra, magari più di una finestra, se ci sono dei mobili in particolare all'interno della stanza, quindi questa la puoi ricordare a memoria, senza nessuno sforzo mnemonico. All'interno di questo luogo che conosci bene, vai a posizionare in un punto che vai a scegliere tu, proprio l'immagine che hai creato. Quindi questo cosa va a fare? Va a consolidare qualcosa di nuovo, cioè l'informazione nel testo, la trasformiamo in un modo che può essere facilmente gestito dalla nostra memoria e la andiamo a conservare all'interno di un luogo che conosciamo bene, che non dobbiamo ricreare di volta in volta, proprio perché c'è questa familiarità. Ovviamente l'aspetto della familiarità è essenziale per andare a ricordare esattamente dove è posizionato quell'informazione sotto forma di immagine all'interno di questo luogo che conosciamo bene. Quindi non c'è un ulteriore sforzo, anzi è un po' il trucco per così dire. Ora, ovviamente il palazzo della memoria, e prima di andare agli step successivi, è una tecnica essenziale, una strategia fondamentale per riuscire a studiare nel modo corretto, ma non dobbiamo utilizzarla da solo. Quindi il semplice fatto di prendere delle informazioni e memorizzarle memorizzarle non vuol dire che abbiamo studiato e andare a utilizzare il palazzo della memoria per tutti i concetti all'interno di una materia, per esempio, quando prepari un esame, non è la strategia che dovresti seguire. Può sembrare una cosa controintuitiva, ma il motivo è molto semplice, perché non ha senso, non c'è bisogno di andare a memorizzare tutte le informazioni. Ora, potresti farlo? Assolutamente sì. Lo devi fare? A mio avviso no. Non dobbiamo essere dei campioni nelle tecniche di memoria. Se il nostro obiettivo è preparare delle materie universitarie, ci basta molto meno delle capacità mnemoniche, appunto, di chi fa, per esempio, delle gare in questo ambito. Quindi quello che voglio farti capire è che è necessario utilizzare un metodo di studio che sia ben strutturato, all'interno del quale ovviamente troviamo delle tecniche di memoria, proprio come nel caso del palazzo della memoria. Qual è questo metodo di studio? Quello che ti posso assicurare, che è strutturato nel modo corretto, non solo per ospitare le mnemotecniche, ma anche per ospitare tantissime altre tecniche, tutte necessarie, è il metodo di QE. Di questa perdomina qualunque esame, l'ho creato io in prima persona, è strutturato in modo tale da guidarti non solo nella preparazione di una singola materia o di un solo anno accademico, ma per tutta la tua carriera universitaria. Nel metodo di QE troverai non solo il palazzo della memoria, ma anche altre tecniche di memoria, e ti spiego il tutto anche con esempi grafici visivi in cui andrai a capire esattamente cosa succede o cosa dovrebbe succedere all'interno della tua mente quando chiudi gli occhi e provi a trasformare le informazioni in immagini, queste immagini all'interno di un luogo a te familiare e poi questo può essere applicato alla memorizzazione di qualunque cosa, ma ti fa capire esattamente che cosa devi memorizzare attraverso le mnemotecniche e in particolare attraverso il palazzo della memoria. Quindi il metodo di QE è costruito anche per ospitare il Mind Palace e quindi io ti invito attraverso il link che trovo in descrizione a dare un'occhiata al metodo che ti ho appena proposto, quindi il metodo di QE. Ti ricordo inoltre che adesso è disponibile la possibilità di acquistare solo alcuni dei moduli. In totale sono 10, alcuni di questi sono legati alle fasi di studio in cui appunto troverai le tecniche di memoria e quindi puoi acquistare solo questi moduli se non vuoi comprare tutto il metodo di studio. Poi ovviamente ci sono anche altri sottogruppi con altri moduli e quindi hai la possibilità di andare poi a costruire come un puzzle tutto l'intero metodo se non vuoi prenderlo tutto in una volta. In ogni caso continuiamo a parlare del palazzo della memoria, torniamo appunto sull'argomento del palazzo della memoria e quello che voglio andare a completare è l'ultimo step, cioè quando abbiamo memorizzato le informazioni, per dirlo in modo semplice, sono all'interno della nostra mente, abbiamo già finito il palazzo della memoria, ci troviamo davanti al docente, che cosa devo fare? Come lo riutilizzo? Basta ripensare nuovamente al luogo in cui hai memorizzato quelle informazioni sotto forma di immagine e ricordando l'immagine ricostruirà l'informazione. In questo modo, e sarà una cosa che se non l'hai mai provato può anche un po' stupirti, la capacità di ricordare le informazioni sarà immediata. Ovviamente se hai utilizzato bene il palazzo della memoria, senz'altro, ma la capacità di ricordare l'immagine è una cosa istantanea e da questo ricordo istantaneo poi ricostruirai le informazioni di conseguenza. Quindi questo era quello che volevo proporti in merito al palazzo della memoria. Come vedi è qualcosa che se la spieghiamo con i precisi step da seguire non è niente di assurdo, ci vuole ovviamente un po' di pratica per utilizzarlo nel modo ottimale e anche in modo molto rapido. Quindi ti invito prima di tutto a considerare un metodo di studio completo che possa essere in grado di gestire tutti gli aspetti dello studio, anche quelli che comprendono le tecniche di memoria, infatti nel metodo di QE trovi sia l'una che l'altra cosa. Quindi ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, ti rinvito probabilmente a dare un'occhiata al link che ti lascio in descrizione proprio per il metodo di QE e io con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani. Grazie a tutti.